Sapete qual è la verità? Non è facile raccontare le storie delle persone che sono riuscite a salvarsi da un disastro. Perché, alla fine, per ogni persona che ne esce indenne, ci sarà sempre qualcun altro che non ce l'ha fatta. Per ogni lieto fine che racconti, insomma, ci sono un'infinità di finali crudeli che chiedono, se non giustizia, almeno memoria. Questo è particolarmente vero per le vicende come le persecuzioni razziali. Ecco, questa cosa qui, tra l'altro, è un po' una mia ossessione. Raccontare le storie bellissime di chi ce l'ha fatta non sminuirà forse chi rimane indietro? Non abbiamo forse un debito verso le storie degli sconfitti, degli scomparsi?